Allora Lorenzo io parto da una considerazione, era una partita mentalmente molto facile ma anche molto difficile, di testa siamo stati forti, forti, forti. Ma il difficile di questa partita è la testa, il difficile di queste serie è proprio il concetto dell'aspetto mentale perché le squadre arrivano che più o meno hanno la stessa benzina nell'osserbatoio, io devo ringraziare tutto il mio staff, quelli che preparano i giocatori, dai preparatori ai fisioterapisti ai dottori perché non è facile recuperarli dopo una sconfitta come è stata quella di Trento, non è facile rifarli prendere la fiducia, dargli serenità, in questi casi qua io lo chiamo il confessionale, l'infermeria, quindi anche una parola detta lì serve molto più che tante altre cose e poi dal punto di vista della preparazione fisica penso che questa squadra abbia dimostrato di essere in grandissima salute e questo va dato un grandissimo applauso ai nostri preparatori e a tutti quelli che collaborano per preparare al meglio questa squadra. Senti un'ultima cosa, domenica si parte subito, tu alla squadra che dirai questi giorni? Adesso dai ci penserò stanotte, tanto penso che dormirò poco quindi questa notte penso cosa dirgli. Vabbè poi ce lo dirai. Adesso non ti so dire cosa gli dirò. Va bene grazie Lorenzo.